Eccoci qui, qui la vostra Lusif che è tornata e oggi vi spiegherà con un nuovo tutorial come di dare una foto su Photoshop in semplici 4 step. Bene, partiamo dal primo, la foto. E io utilizzerò una mia foto scattata alla Games Week Cartoon Mix. Il primo step è quello della pulizia della foto. Dunque, tasto destro qui sui livelli, tasto destro sul livello sfondo e fate duplica livello. Così abbiamo un livello sfondo che è quello che rimane intatto, non si sa mai, e quello copia dove andremo a fare i nostri lavori. In questa foto io penso che come lavori di pulizia dovrei pulire tutto qua dietro, ma è una cosa molto più complicata che vi farò vedere come si fa velocemente dopo. Ma nella foto in generale da pulire c'è, in questo caso, il viso. Oddio, non è che ho molto da pulire il mio viso, però... Comunque, andate qui, nella barra a sinistra, e c'è il cosiddetto strumento pennello correttivo al volo. E vi faccio un esempio, io poi lo toglierò perché in realtà non ho molto da pulire in questo viso, assurda, amante. Però vi faccio vedere un esempio. Facciamo vinta questa linea, a me non piace, la voglio togliere. L'ha selezionata. Sparita. Ora immaginate, tipo avete un grosso brufolo, fate così, sparisce. E il pennello correttivo al volo è la soluzione ai vostri problemi, credetemi. E dopo, una volta che l'avete utilizzato, tipo, vi faccio vedere, ecco, voglio togliere il tatuaggio. Facciamo così. Prendo solo l'aria del tatuaggio. Sparita. Però vedete che ci possono essere piccoli errori, quindi usatelo più in maniera tale che si pulisce per bene la zona. E il mio tatuaggio è sparito prima, dopo. Togliamo lo zoom. Poi altre cose da pulire, ora come ora, non mi vengono. Però voi dovete controllare tutto. Tutto. Secondo passaggio. E' sempre qui nella sbarra. E utilizzare lo strumento scherma e lo strumento brucia, basta fare il tasto destro e vi spuntano entrambi. Io farò lo scherma in modalità ombre, che c'è sia ombre, mezzitoniche e luci. Lascio al 90, uso il pennello morbido. Sì. Zoom sul mio viso. Et voilà. Viso illuminato magicamente. Lo faccio anche sulle mani, perché sennò poi c'è un'incongruenza. E lo faccio un'altra volta, per dare più luce al viso. Come vedete, è già la foto totalmente diversa. Vedete, ha preso proprio un'altra luce. Secondo passaggio. Quindi, secondo step. Dopo che l'avete pulito, avete fatto tutti gli schermi, brucia. Io, col brucia, tecnicamente farei le ombre. Ma, essendo questo un personaggio di Jojo, già le cosiddette ombre, io me le sono disegnate nel trucco. Non ne ho bisogno, però vi faccio vedere, ad esempio. C'è capito? Tu disegni le ombre, fai tutte le cosette, e viene figo. Ma, non ne ho bisogno. O meglio, se lo volessi fare, potrei fare luci, perché faccio il contrario. Metto il pennello più piccolo e mi tiro qualche linea qua. Qualche linea qua. Qui, qui. Così. Intensifico l'occhio. E basta. Ora, secondo step. Lo sfondo. Per lo sfondo, io vi consiglio di fare sempre una terza copia. E ora vi spiego il perché. Fate tasto destro sullo sfondo copia. Duplica livello. E, così, andate a, nella sezione filtro, sfocatura, e fate controllo sfocatura. Io direi fare una cosa più così, esatto. E ora vi faccio vedere il perché. Fate ok. E poi fate. Cliccate qui. Vedete questo bel simbolino? È la maschera. E vi spunterà maschera di livello, densità, bla, 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 bla. Scendete e fate inverti. E diventa nera. La maschera diventa nera. Qua sparisce. Per usare la maschera, prendete il pennello e scegliete il colore bianco, che è il contrario, in questo caso, della maschera. Che la maschera sia bianca o nera. In questo caso, col bianco vi spunta l'effetto e col nero lo rimuovete l'effetto. Se invece mettete la maschera in nero e usate il bianco, applicate l'effetto, come adesso vi farò vedere. Metto sempre il pennello morbido, in maniera tale che posso essere più tranquilla. Troppo morbido. Vedete? Si sta applicando la sfogatura sullo sfondo. E io l'applicherò solamente sullo specchio, perché a me questo sfondo comunque piace. È semplicemente l'ombra dietro sullo specchio che è un po' così. Lasciamo stare. Diciamo, ragazzi, che alla Games Week non è che c'erano grandi posti dove scattare. E anzi, io ho queste foto. Ma comunque, non siamo qui per parlare di questo. Dopo. E facciamo bella attenzione. Io sto usando ovviamente una tavoletta grafica, quindi sono molto precisa nel fare questa cosa. Voi potete utilizzare il mouse e stare molto più attenti, perché col mouse capisco che è molto più complicato. Per la precisione, è fattibile, perché io per tanti anni l'ho fatto, quindi chi dice che non è fattibile non è vero. Però capisco che è complicato. Quando vedete sbagliato, ad esempio, avete visto? Io ho fatto questo cosa che ho invertito. Ho rimesso il nero. E così si toglie l'effetto, perché ho sbagliato e ho cancellato una parte delle dita e non va bene. Rimetto il pennello più piccolo e faccio più attenzione. Ora, mi sa che c'è un altro errore, sapete? Sì, 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 ho cancellato pure un pezzo di capello. Ok. Ora, rimettiamo lo bianco, facciamo gli ultimi dettagli, qui e lì. Ora, siccome il blu è molto pesante, vado qui sul riempimento, dove c'è il cento, e lo abbasso poco a poco, così. Così non è troppo pesante. Ed è perfetto. Io ora sto utilizzando lo sfumino, questo qui sotto il secchiello, per spostare un poco a mio piacimento. Perché sennò dovrei fare pennello, gomma, gomma, pennello, cioè, no. Fate così, vi sbrigate. Però qua ci vuole molta precisione pure. E, come potete vedere, prima, dopo. Quello che dovete fare adesso è semplicemente cliccare il nuovo tasto adesso sullo sfondo copia. Due. E fare unisci sotto. Quindi si è diventato un'unica cosa. Ora, questo è il secondo step per lo sfondo. Voi con lo sfondo potete fare di tutto. Io ho fatto la sfogatura. Potete andare qui sul filtro e vedete tutti gli effetti. Io vi ho fatto vedere come sfumare. Questa cosa della sfumatura vale anche per il viso, ragazzi. Stesso procedimento. Magari fate una sfumatura un po' più leggera e non troppo pesante. Magari in un altro video vi spiego come ritoccare un viso molto rovinato. Qua, purtroppo, scusate. Non c'ho molto da editare in faccia. Terzo step. I dettagli. Una foto non riesce mai a catturare in pieno tutti i dettagli o i colori. Soprattutto c'è una foto di un cellulare. E questa è una foto di un cellulare, assolutamente parlando. Quindi io farò un nuovo livello dal più. Prendo un pennello più duro per questo caso. E zoom. Essendo un personaggio di Giorgio è pieno di linee nere. Io andrò a rifarmi per bene le linee nere. Che non mi sta facendo. Ora me le sta facendo. Andiamo a fare queste linee nere. Linee che già esistono, attenzione. Io non sto andando a ricreare qualcosa. Sono delle linee che già, in un certo senso, sono esistenti. Io le sto semplicemente ricalcando per dare più vivacità, più contrasto. Perché in foto, con tutte le luci che c'erano lì, si sono persi questi colori. Come vedete, sto proprio ricalcando. Facciamo qui. Devo fare molto leggero. Ecco, questo ragazzi, col mouse, è molto più complicato. Purtroppo. Mentre con una tavoletta grafica, avete molta più precisione. E voi direte, ma la tavoletta costa? Non è vero, ragazzi. Una tavoletta grafica, non per forza con lo schermo, come ce l'ho io, la trovate anche a 20 euro. Quindi, se volete, potete anche... Io vi consiglio, durante il Black Friday, di comprarla, se proprio dovete comprarne una. Che almeno c'è... Ci sono gli sconti. Sono gli sconti, Loris. Oddio, sta canzone, quella che hai pirando in pochi. Ok. Qua mi rifaccio le liner e tutto, perché... La fotocamera, anche la più professionale, non catturerà mai i reali colori di una foto. Sarà sempre... I colori vengono sempre sistemati in post-produzione. Qualsiasi foto. Qualsiasi. Ve lo posso assicurare. Questo non lo dico io. Ok. Come potete vedere, già è tutt'altra cosa. Prima. Dopo. Prima. Dopo. E adesso io farò semplicemente che... Abbasso poco poco il riempimento. E farò un'altra cosa bella. Sempre in questo step, per la sistemazione dei dettagli, io andrò a usare qua lo stampino, che è sotto il pennello. Usare lo stampino è un po' più complicato. Vi consiglio di fare un nuovo layer e intanto lascerlo lì. Andare sullo sfondo copia. Zoomare la parte che vi interessa. Premere il tasto Alt. E vedete che spunterà questa cosa. Cliccate. Ad esempio, vi interessa questa parte. Ci ho cliccato. E vi ritorna qua. Dovete fare... Dovete cliccare sulla parte dell'aie dello sfondo. Altrimenti non funziona. Poi, per applicare quello che avete campionato, tornate sul livello 2, così in caso potete cancellare. Vedete? Io ho campionato i miei capelli. E farò questa cosa. La copia. Che manco si vede. Ma ora vedrete. Control T. Che è il trasforma. E faccio questa cosetta qui. Trasformo a mio piacimento perché l'obiettivo finale, poi, con il cancella della gomma, sarà semplicemente io che riempio la frangetta nella maniera più naturale possibile. Prima, dopo. Spostiamo l'altro luogo perché qua non mi piace. Ok. Perfetto. Ora, stessa cosa di prima perché voglio comunque riempire altre parti. Ad esempio, adesso farò questa... Ridimensiono il pennello. E farò questa parte... Che non voglio che mi si veda l'orecchio. Poi, di nuovo, vado su sfondo copia, mi prendo questa parte, torno sul livello 2. E faccio qui. Perché voglio fare questa zona un po' più lunga. Oppure, sfondo copia, non mi piace come la parrucca mi è caduta da questo lato. E faccio così. Mi prendo questa parte dello sfondo copia. E via. Oh no. Possono capitare questi errori però. In questo caso, che si fa? Semplice. Sempre sfondo copia. E si arriva a tentativi, nel tentativo di non beccare la parte incriminata. E quando capita, basta che facciamo così, ragazzi. È arrivata una certa. Seleziona con l'aso, prendiamo la parte, via, contro il T, e si sposta manualmente. E ce lo modifichiamo per i fatti nostri, così. E poi andiamo a cancellare l'eccesso che non ci interessa. Quando lo fa cancellare? Intanto si bugga sta cosa. Ok. Però come vedete, vedete, ci sono questi errori. Questi bug di sistema brutti. Basati sul colore che non va. In questo caso io cancello, perché no. E voi direte, e come facciamo? E io quella parte la voglio eliminare. Come posso fare? Dovremmo... Allora, ci sono più possibilità. Una delle possibilità è questa. Del filtro. Fluidifica. Oh, aspettate. Ecco, livello 1. Unisci sotto, così uniamo tutti i layer. Torniamo col fluidifica. Ok. Zoomiamo sulla zona. Dovete essere molto attenti col fluidifica, ragazzi. Veramente, non si scherza con questo aggeggio. E anziché andare a cancellare tutto, potete semplicemente sistemare piano piano la parte. State sempre attenti, perché qua sbagliare ci stai un attimo. E a rendere tutto un obbrobio. Perché vi faccio un esempio. Col fluidifica c'è anche il volto. Quindi voi potete allargare un volto, potete stringerlo, allargarlo, stringerlo. Potete allargare un naso e stringerlo. Stessa cosa con le labbra, allargare un paio di labbra e stringerle. Io le faccio ritornare normali. E da qui che la gente si ingrandisce il sano. Stessa cosa potete fare io con gli occhi. Tipo così. Guardate. Cioè, vedete? Uno. E due. Ma non lo faremo. Però vedete, io ho sistemato qui. Mi sono allargata involontariamente il viso. Ok, volevo farvi vedere i capelli solo. Ho sistemato un po' i capelli. E andrò a sistemarli, perché voglio dargli ancora più volume. Soprattutto da questo lato. Metto il pendello un po' più piccolo, perché è troppo grande e poi può essere pericoloso. Ok. Le anteprime dell'immagine non sono visibili, perché l'opzione anteprime non è selezionata. Ah, mi scusi. Non avevo selezionato la cosa. Vedete, sto ingrandendo poco a poco la massa dei capelli. Ok. Diciamo ok una volta soddisfatti. Però rimane il fatto che qua sotto a me non piace. Quindi, ritorno con lo stampino. Questo è un lavoro un po' più complicato. Mettete l'angolo qui, in questo caso, e fate così. Piano piano. E' un lavoro molto più complicato. Però poi ne avrà i suoi frutti. Diciamo così. Cancelliamo la parte che non mi interessa. Con lo sfumino vado a sistemarmi questa cosa. Così lo unisco al resto. Anche di qua. Perfetto. Così fa meno impressione, in un certo senso. Diciamo così. E siccome è comunque così, ragazzi, si nota. Cioè, il distacco è tremendo. Possiamo fare che allunghiamo finché non siamo soddisfatti questa parte. Oppure, modifica immagine, regolazioni, luminosità, contrasto. E trovate il bilanciamento perfetto. Ta-da! Ora sì. Ora sì che mi piace. Bene. Ultimo step. Abbiamo sistemato la foto, l'abbiamo pulita, abbiamo fatto lo sfondo e ogni cosa. L'ultimo step. I colori. I colori della foto. Nel mio caso, io vado su Filtri. Filtri. Camera Raw. Quando si apre, ovviamente. Ok, si è aperto. Sull'altro schermo. Ha sto vizio di aprirsi sull'altro schermo. Camera Raw a me piace tantissimo perché vado direttamente a lavorare sui colori. Allora, io voglio fare qualcosa sui toni un po' più... Probabilmente più freddini. Non lo so, vedremo. Allora, abbassiamo un po' la luminosità. Qua è vostra discrezione. Dovete fare come vi piace di più. Io andrò a fare qualcosa di non so ancora come. Nel senso, non so bene. Come potete vedere, ci sono tantissimi cose. C'è il contrasto, la texture. Qua sulle curve io ci lavoro veramente poco, sono sincera. Però, ogni tanto, qualcosina, dettagli, tipo nitidezza, metto più nitido e tolgo il disturbo. Riduzione del disturbo. Su mixer colori andate a lavorare di attente sul colore. Come potete vedere, stanno un po' modificando i colori. Ok. Ok. Perfetto. Più o meno qui. Saturazione. Ok. Il giallo me lo aumento. Questo me lo... Il viola me lo tolgo tutto. Proprio lo elimino da questa foto. E dalla luminosità... Mi... Uuuuh. Questo effetto è strano e mi piace allo stesso tempo. Sono sicura che è sbagliato, però mi piaceva. Ok. Ok. Poi c'è anche qua il color grading. Ok. Io tolgo le ombre. Io lo sto facendo con i bianchi. Però... Vedete, potete mettere qualsiasi grado di colore. Ma se lei questo non è male. Mezzitoni, luci e tutto. Ma quasi quasi... E poi c'è la fusione e decidete come fondere bene il bilanciamento. Io direi così. La ottica è la distorsione della foto. In questo caso non ce ne ha molto bisogno questa foto. Per fortuna. E anche la geometria verticale. Oppure c'è abbiamo l'orizzontale. La rotazione. L'aspetto. In questo caso io direi proprio di no. La scala per zoomare. Io in questo caso zoom un poco. E l'asse XY. Tolgo un po' di zoom alla foto per fare questa cosetta. Poi io... Ok. Perché vorrei farla più così. E facciamo un po' di scala. Perfetto. E ora gli effetti. Questo qua. Lo metto proprio leggero leggero. E metto un po' di ombra. Proprio poco poco. Attorno ai lati. Ecco qua. E la calibrazione. Qui pure è sempre a vostro discapito. Io farò un po' così. Metto un poco poco. Perché non voglio esagerare. Perché poi diventa molto strana. Come effetto. Ok. 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 Perfetto. Poi se volete. Vedete. Questi sono quelli in generale. Io posso andare anche su pennello di regolazione. E mi coloro un'area da modificare con le luci. Oppure fado su filtro graduato. Che vedete. E poi ve lo sistemate a voi. Io potrei fare magari al contrario. Così me lo allargo. Perché la luce viene da quel lato. Faccio così ad esempio. E mi punto una luce. Faccio vedere. Vedete. Mi sto puntando questa luce. Molto. Così. E poi ci decido il colore qua. Effettivamente potrei pure farlo ragazzi. Sai. Sapete. Sono. Quasi tentata. Oppure no. No. Non lo faccio. La tentazione era grande. Ma. Oh mamma. È diventata una foto di Giorgio adesso. No. No. Basta fare. Poi cliccare sulla parte. E fare cance. Dalla destra e si toglie. Lo rifaccio vedere. Il prima. La foto da così. È diventata. Così. Vedete com'è bello? Fate ok per salvare. E per sicurezza salvate anche il vostro file. Perché non si sa mai Photoshop come potrebbe rispondere a tutto ciò. Ok. Ora vuoi? Questo era l'ultimo step. Dopo Camera Raw io non faccio molto. Al limite ogni tanto vado nella sezione regolazioni. Faccio qui. Consultazione colore. Carica tavola. E mi guardo una delle tavole. Cioè beh. Tipo così ragazzi. E se ce n'è qualcuna che mi piace magari gliela metto. Carina. Ma è raro. Sono sincera. È molto molto raro. Questa manco sarebbe male. Sapete? Sapete? Questa qua mi ha attirato in realtà. Ecco la gomma cancello qualche parte che non mi interessa. Tipo. Oppure potrei fare una bellissima cosa. Vediamo. Eh gli dà più i toni. No no. No. Ok. Va bene. Così. E questa ragazzi era la foto editata. Ora la salvo. Io la salvo come png. Così mi rimane un po' più in alta qualità. Faccio trattino uno. Così mi salva anche l'originale. E adesso metterò qua accanto. L'originale. Com'era. Così vedrete. Eccola qua che è giù. Il prima. E il topo. Ragazzi il prima e il dopo della foto. Ok. Questo era un veloce tutorial su come modificare una foto con Photoshop. Veramente. Ragazzi questa è la base. È la base. Spero che vi sia piaciuto. Se volete altri tutorial basta chiedere. Veramente. Qui nei commenti. Lasciate un like. Seguiteci. E alla prossima. Ciao.